bentornati su my football jersey oggi vediamo una maglia che avevamo già visto in edizione fan trovate qui in alto la recensione questa è la prima maglia della juventus per la nuova stagione la 2020 23 24 in edizione player la maglia di chiesa la maglia di chiesa stupenda meravigliosa è la maglia della juventus la prima maglia una maglia a righe ma su queste sono veramente superati nella mia classifica prende 5 stelle fantastica la striscia sfumata e la rifinitura in giallo il costo lo vedete qui sopra che dirvi per questa maglia un'occasione imperdibile in descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia ma soprattutto trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari quindi il costo che vedevate prima diventa ancora più basso prima di salutarvi vi ricordo di lasciare un grande like ma soprattutto di iscrivervi al canale questo ci permetterà di offrirvi sempre nuove recensioni in futuro per oggi è tutto ci vediamo alla prossima io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa quella che vedete è una taglia large della versione player via e e e Grazie a tutti.